Il cimitero di Ponte San Pietro in Via Roma è un luogo di memoria e devozione per tutta la cittadina dell'isola bergamasca ed ora è stato reso ancora più dignitoso e decoroso dalla riqualificazione del viale d'accesso. Il comune ha infatti realizzato un intervento molto atteso e sentito da tutta la comunità. I lavori, del valore di 60.000 euro, hanno portato in dote un nuovo filare alberato, ispirato ad una fotografia d'epoca di diversi decenni fa. I precedenti cipressi erano ammalorati e ormai privi di foglie, oltre a invadere i marciapiedi dove transitavano le persone. Si è quindi deciso di sostituirli con i nuovi cipressi di numero maggiore. Altra novità presso il cimitero di Ponte San Pietro, l'installazione della nuova illuminazione a led lungo il vialetto. Il marciapiede ora si presenta illuminato, era da sempre rimasto al buio, oltre che più arioso con le nuove piantumazioni. Contestualmente abbiamo anche rifatto parzialmente il muro esterno del cimitero di Ponte e invece presso il cimitero di Locate le manutenzioni hanno riguardato la ritinteggiatura completa dei muri esterni ed interni del cimitero stesso.